buona prima al centro e poi attacca sul fantastica sport si è fermato da sin brown effettivamente era buona e dunque a torto si butta avanti qui brown ma si difende alla grande benetton che può chiudere con il pass cosa si è inventato in ecco che grande scambio doppio rimbalzo dunque centrale questo attacco può passare benetton e lo fa splendido l'obby brown costretto a indietreggiare benetton e questa è riuscita un po troppo lunga chiude con la ottimo attacco di benetton che si prende però Lunga Bola via Il tentativo Contro Golubic ha vinto il primo Altair Il primo set per 9-7 Fantastico Passante in corsa A regolarizzare l'ingresso Del pubblico 15-0 Bellissimo passante Servizio al colpo Poi la chiusura in avanzamento Con la seconda per Brown Per Benetton E' buono Fantastico questo lob Spaziale Rimane corto questo lob Ma mette in difficoltà Benetton Che non riesce Fantastico Già Benetton Caronze Caronze Steca Benetton Eccolo qui Il primo brecchi E chiude Eccolo